L'esercizio è questo, quasi sul posto, ok? Tanti tocchi, tanti tocchi, poi quando arrivi lì, la spingi sotto, ok? Se riusciamo senza guardare il pallone. Lo facciamo il più possibile, ok? Pronti? Aspetta! Più tocchi facciamo, meglio è. Se riusciamo anche senza guardare il pallone. Pronti? Tranquillo, tranquillo, non aveva paura. Dai, dai, tanti tocchi. Tanti tocchi. Tanti tocchi. Piano. Fa niente, dai, 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 fa niente. Sì, bravo. Dai, dai, partite, partite, quando arrivano al secondo partite. Dai, dai, fa niente, fa niente. Fa niente, fa niente. Dai, vai, vai.